Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di Minecraft, dell'Icebox One X, come avete letto appunto nel titolo. Guardate, io ho tutti questi mondi, crea nuovo, le ho comprato vita di città, sopravvivenza a Duflil, no questo non ce l'avevo, non manco. Ecco, fino a qua, ce l'ho tutti, da qui fino a qua. Vi porterò nel server City Life, cioè della città. È bellissimo, a tutti quelli che gli piace la serie Vampiri o la serie città, porca puttana, vi faccio questa domanda. Vi piace la serie città o la serie Vampiri? Se sì, e se sì che avete l'Icebox One o l'Icebox One X, vi dirò che se volete vi mando l'invito per partecipare alla serie città o alla serie Vampiri o a tutti e due. Sempre, sempre se volete. Non so perché non si sente l'audio. Aspettate un attimo. La musica. Ah, ecco. Potrete partecipare, ah, che bello, guardatelo. Potrete partecipare appunto alla serie città, alla serie Vampiri o a tutti e due. Come volete. Guardate che figata, sulla mia bellissima motocross nera e rossa. C'è tutto in questa città. Non fate caso come gli uguidi. È figlissimo. Se non avete l'Icebox, compratelo. Perché è bellissima, è più bella della Play. Sto facendo un Play Sment a l'Icebox. Sto andando un pochino in giro per la città. Poi la numero io la città. Per ora è così perché è stata creata già. Ora lungo la proprio io mi piace. Ok, parcheggio. La mia bellissima motocross. Ci metti un poliziotto. Jug Superman. Rubo questa macchina. Sono in GTA. GTA. Beh, comunque è bellissima. Però ora sta macchina è in aeroporto perché preferisco. la mia moto. Che pure non se ne è. Ehi, ehi. Ancora. Ah, ok. Quando vi comprate l'Icebox, se non sapete cosa comprarvi come giochi o come Minecraft, perché ci sono due Minecraft, uno normale e uno con i mod, cioè questo. e ve lo dirò io, basta che mi chiedete, se no ve lo dico adesso, Minecraft che dovete comprare sull'Icebox, si chiama Minecraft Xbox Live, però solamente per l'Icebox, perché sulla Play non esiste perché fa cagare la Play. Ma... 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 Aspettate, eh. vado un pochino in giro per la città. 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 Vado un pochino in giro perché ci stanno anche le moto, c'è stato il garage, c'è stato la piscina, quindi 4.000 euro questa casa. Questa casa invece costa 6.000 euro. Questa... 560 euro. È pochissimo, infatti dopo la mia, ci penso io dopo. Ah, qua c'è pure il garage, appunto. Sono buoniziotti così ti prenderbbero la notte. 1543 euro. È molto carino. Questa... Ah, questo è un milione di euro. Perché è gigantesca, è una villa. Guardate. È gigante. E... Anche un gatto. Con preso. Poi... Eh... Questi abitanti... Li uccidete voi. Questo è il garage. E questo è il tappeto elastico. Ma c'è giù. Quindi... Questo è bellissimo. Come villa. Caro. Questo l'ho già fatto vedere. Ah, più avanti ho costruito anche io una casa. No. Ho sbagliato. Non è qui. Ma... È... No. 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 Non trovo la casa che ho costruito io. Non mi ricordo dove l'ho costruita in realtà. Pensate qua. No. Dove è? Non trovo la città. La casa che ho costruito io. Boh, vabbè. Poi te la farò vedere appena la vedo. Vabbè. 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 non mi ricordo proprio dove l'ho costruita bu vabbè ah eccola eccola questa l'ho costruita io come vedete si vede perché ci sono tutte queste altre questa costa 237 euro stanno questi che si chiamano citroni di mare poi qua sull'isbox ci sta sto legno che si chiama legno di abete squerciato stanno tutti questi tipi di legni squerciati poi guardate questi tipi di botole questi tipi di botole sono bellissime beh questa l'ho costruita io come l'ho già detto pensa pure a un terrazzo molto bella hai visto? poi costruirò altra strada altri hotel altre case naturalmente perché c'è poca roba ora ve lo faccio vedere in creative aspettate ok ve lo faccio vedere in creative quindi da un'altra è gigantesco ok guardate guardate quanto cazzo è grande è gigante è una cosa miracolosa è gigante qua questa è la scuola qua questa è la scuola eh quanto cazzo è grande poi qui continuerò la strada di sicuro la continuerò poi come fai ad andare con i veicoli fino a qua? come fai con i veicoli? ma questo è l'aeroporto ma questo è l'aeroporto non so eh eh questo è l'aeroporto ne so non lo so vabbè sì è l'aeroporto perché c'è sta quella sì è l'aeroporto beh guardate comunque quanto è grande cioè è una cosa spettacolare per ora io ho creato solo quella casa poi creerò altra strada perché adesso non c'entra niente non vedete quindi non so dove ma creerò altra strada guardate quanto è grande è bellissimo la mia moto dove l'ho lasciato era tipo qua ecco poi ragazzi ditemi se volete che vi faccio altri video di questo genere dell'easbox o se volete che vi faccio proprio proprio stavo dicendo proprio video di questo se serve però ho trovato un altro che si è venuto oh dio ci sta un lato oh dio ci sta un lato ma io sono un lato come on come on come on ouch 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 aaaah forte belli modo però devo scappare adios damigas get it in my way eaaaaah they push ouch come on ouch come on they push no ma io sono un lato sono un poliziotto guardate quanto erano uccisi quanta roba erano prese devo mangiare devo andare a casa ma questa bianca è bella questa nera bianca però preferisco la mia nera eeeh dove è la casa mia ragazzi voi non potete capire io per trovare casa mia ci metto ogni volta a un quarto e poi non è casa mia ma è il mio hotel cioè dove vivo io nel hotel non mi ricordo dove è casa mia sta vedendo dalle coordinate casa mia era 520 è la mia pausa ma è il mio hotel cosa mi piace è Grandezion dovrebbe essendere questa è la mia moda e questa è la mia macchina ah ecco 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 una stanza 100 euro buongiorno ma però si sventa la musica mi blocca grazie che sia passato davanti rumset scusa dirlo che c'ha lettera come attività di diventero grece c'è il mio video il mio nome su Xbox qua ho lasciato un po' di roma aspetta un attimo ripeto un po' I love the city I love the city non ricarda me maia I love the city tre dente e spada di pietra che sarebbe il manganello però mi serve cibo 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 prendo delle mele così non ingrasso poi sono tutti i veicoli sono pochi però vabbè poi il tre dente e il manganello dove? eccolo ok tre dente qui le mele qui no le mele qui ok ok vado in giro con il mio penello perchè io sono un poliziotto vado in giro con la moto vado in giro camminando vado in giro camminando c'ho un ladro brutto cazio di mele brutto cazio di mele brutto cazio di mele ok questa era la mia vecchia moto poi l'ho abbandonata qui perchè ho trovato la moto quella mia era in rossa faccio come su GTA rompo le macchine come su GTA io sono un vero gang style di GTA e poi la macchina me la ridà pure ciao che bella macchina io ho una nuova macchina eh eh what the fuck polizia ma lui è un'altra aspettate che vado ad abbandonare pure questa macchina abbandono più questa macchina bastardo chi era ma guai vieni chi era ma guai vieni vieni qui chi era ma guai ah questa è la scuola della scuola guarda che figa la scuola ahia eccolo un altro lago uso il tridente il tridente è prezioso quindi me lo tengo c'ho paura di usarlo troppo quindi uso la macchina cioè uso un po' il tridente che fa più male e poi un po' la macchina poi qua ho scritto io scuola che bella la scuola ma questo sono gli armadietti a me il libro è incantato e spero I love the 7 I love the 7 non ci sono scritte le materie ma questa ma aspetta questa non è una classe questa non è una classe cioè si però vabbè questi sono i bagni questa è una vera classe ecco ma questo sembra più un teatro però mi tira i tranei ecco questa sì che è una vera classe ecco questa pure è una vera classe beh certo sono vera classe certo no che è una vera classe andiamo 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 ad uccidere i miei colleghi sono un tuo collega non sono stato io a picchiarti non è vero guarda come corre non sono stato io a picchiarti e sta bene io ho un nuovo manganello da portare a casa un uovo di zecca ma che cazzo vuoi da me? sono un tuo collega cosa ti fa cosa ti fa avvicinarti non avvicinarti non avvicinarti non avvicinarti ho un manganello te lo fico giù per il questo è un roto di manganello che bello ho quattro manganelli ma tutti pulizioni contro di me aiuto 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 che penso che penso ha vaffa il culo ha vaffa il culo porta il culo come, 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 come vieni se non sono in alto? ecco Armstrong oh ma che cazzo vuoi? se ne trova l'ha ucciso sa tirvi a te aspetta cosa c'era scritto cioè cosa ha detto? ha parlato veramente mi devo far riammazzare perché ha parlato devo farlo sentire perché ho sentito io ma piante ammazzami 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 scheletro ha ucciso sa tirvi a te che figata può parlare ora non puoi riposare ci sono mostri nelle vicinanze si ma perché parla? ora non puoi riposare ci sono mostri nelle vicinanze ora non puoi riposare ci sono mostri nelle vicinanze ma perché parla? ora non puoi riposare ci sono mostri nelle vicinanze ora non puoi riposare Ci sono mostrine e le vicinanze Ora non puoi riposare Ci sono mostrine e le vicinanze Ora non puoi riposare Ci sono mostrine e le vicinanze Sì ma perché parli? Ci sono mostrine e le vicinanze Ora non puoi riposare Ok va bene non riposo Non riposo Ora non puoi riposare Ci sono mostrine e le vicinanze Si è pagato il gioco Ora non puoi riposare Ci sono mostrine e le vicinanze ora non puoi riposare ci sono mostri nelle vicinanze ora non puoi riposare ci sono mostri nelle vicinanze ragazzi voi non potete capire quanto mi sono tutti i coglioni vabbè ragazzi questo video per farvi vedere che l'hsbox è meglio della play ricordatevi che se non siete iscritti al canale iscrivetevi lasciate il pollice in su sosteneteci continuate a guardare sempre i nostri video lasciate il commento hashtag is box o se no hashtag siete migliori o tutte e due un saluto Emanuele e al prossimo video bella